Voglio anch'io la mia coperta umana! Yeee! Eh sì, miei cari! Voglio anch'io la mia coperta umana! Ciò che ti serve è solo una coperta per riposare, per recuperare, per tornare a vivere, pochi possono definirsi fuori dalla sindrome di Linus. Io no. E forse nemmeno nessuna delle persone che conosco. E forse chissà, nemmeno nessuno dei miei lettori. Siamo nati soli e imperfetti, dai genitori soli e imperfetti, che ci hanno amato nel modo migliore, l'unico in cui hanno potuto. E ci siamo ottenuti la nostra solitudine, attraversando maldestramente e coraggiosamente una società malata di solitudine isterica, sempre più inesperta e incapace di gestire contatti umani autentici. La cosa che, nel nostro profondo, desideriamo nel modo più ardente e autentico è un cucciolo caldo. Abbracciare noi stessi, la nostra mamma, un cane, o un bambino, o una coperta. Schultz lo sapeva. E da allora, quando lui l'ha intuito, questo bisogno si è diffuso sempre più in tutto il mondo. Un mondo che ama più gli oggetti delle persone, le astrazioni della concretezza. Un mondo sempre più freddo e povero. Un mondo sempre più ricco, freddo e povero. La notte sogniamo un cucciolo caldo da abbracciare, una zattera, un tappeto volante, un orso in pura pelle umana. Sì, da grande voglio un uomo nel letto, bello, ricco e comprensivo, che mi abbracci, mi inglobi e mi porti via da tutto. Sogniamo l'oblio, sogniamo il principe azzurro, che ci dia tutto. E tutto questo non esiste. Non esiste nell'ordine naturale delle cose, della natura e della natura umana. Non esiste nessuno da prendere e usare come sedativo o come nutrimento. Viviamo in una società individualista che demonizza la dipendenza e incita alla solitudine, all'edonismo, all'egoismo, a prendersi i piaceri, a restare bambini o adolescenti capricciosi. e siamo dipendenti. Non sappiamo stare da soli. Non sappiamo stare in compagnia. Non sappiamo stare in coppia. Non può una persona riempire il nostro senso di vuoto. L'ordine naturale delle cose, per quel che ne so io, per come lo percepisco io, è connessione. Ogni fiore è connesso ad altre piante e ad alcuni animali. Ogni persona è connessa a una rete di affetti, di collaborazioni, di scambi vitali. Questo dà luce e calore all'essere umano come ad ogni altra creatura. Questo naturale fluire di amore e nutrimento è ciò che manca nella nostra società. È ciò che ognuno di noi deve prendersi la responsabilità di creare. Sapere stare da soli significa essere ricchi d'amore, di curiosità e di attenzione per la vita. Sapere stare da soli significa coltivare le proprie connessioni e non virtuali connessioni reali. Se sai stare da solo saprai stare in coppia. Sarai dipendente com'è naturale ma sarai anche autonomo com'è naturale. Forte della tua ricchezza e fragile della tua cristallina sensibilità. Allora avrai tanto da offrire perché offrirai te stesso. attenzione Grazie a tutti.